Ben trovato l'appuntamento con l'informazione ancora una volta i problemi del libero consorzio comunale in apertura, ci sono i dipendenti dell'ex provincia che ovviamente rischiano di non percepire lo stipendio e allora il sindacato scende in campo e chiede al prefetto o chi per lui facende funzioni e alla politica di intervenire in maniera drastica. All'ex provincia di Siracusa arrivano gli spiccioli e scende in campo anche il sindacato provinciale CSA. La conferenza Regione Autonomie Locali che si è tenuta mercoledì ha evidenziato l'inadeguatezza degli strumenti finanziari messi a disposizione oggi dalla Regione per garantire quantomeno il regolare svolgimento e le funzioni attribuite ai liberi consorsi ma anche il regolare pagamento delle ritribuzioni ai dipendenti dell'ente e della partecipata. Il CSA da tempo sostiene che necessitano interventi straordinari e che bisogna arrivare al tavolo tecnico permanente che possa affrontare e risolvere la problematica dell'ente. Nel prenderatto che si è deciso di chiedere interventi straordinari al Governo nazionale anche in considerazione della tipicità del dissesso dell'ente il cui principale creditore è proprio lo Stato, il sindacato ha chiesto che il Governo regionale si attivi da subito per intervenire finanziariamente con le risorse necessarie per garantire in questa prima fase l'intervento per il pagamento degli stipendi ai dipendenti. Il CSA quindi fa appello a tutta la deputazione nazionale regionale siracusana affinché lo Stato di totale abbandono che si è evidenziato negli ultimi anni registri una decisa inversione di tendenza e si possa evitare che il malessere di una intera collettività sfoci inturbative dell'ordine pubblico. I portavoce Pentastellati, Stefano Zito e Paolo Ficara intanto nel chiedere all'assessore regionale Grasso di spiegare le ragioni per cui il libro consorzio di Siracusa sia stato penalizzato si rivolgono agli altri deputati regionali siracusani per intervenire con una punta d'orgoglio a favore di Siracusa, quindi Rossana Cannate e Pippo Genuso dovrebbero alzare un polverone per l'ingiustizia che oggi paga Siracusa, dicono i due deputati Pentastellati e facciamo così sentire anche la propria opinione a difesa dell'ex provincia. C'è il pericolo di crollo delle altre due torri faro e per questo motivo è stato chiuso il campo scuola Pippo di Natale, ma anche allo Stato di Simone stanno per essere completati i lavori, la prossima settimana sempre che la commissione provinciale pubblici spettacoli dia l'ok potrebbe essere riaperto, ma solo parzialmente, sentiamo tutto nel servizio. La chiusura del campo di calcio del Pippo di Natale si è resa necessaria dopo gli esami spessimetrici che sono stati realizzati ieri, nei quali sono state evidenziate le diverse problematiche, ovvero lo stato di corresione delle due torri faro ancora in piedi è uguale alle due torri faro che sono state rimosse. Una situazione che ha messo in allarme la società di calcio della città, una di queste ha inscenato una manifestazione di protesta in piazza Santa Lucia. Per ragioni di sicurezza l'ufficio tecnico ha ritenuto di rendere inagibile il campo fino a giorno 21, data in cui saranno ultimate le operazioni di abbattimento delle due ulteriori torri faro. A quel punto ho avuto conferma dall'ufficio tecnico che stanno lavorando per un progetto per costruire quattro nuovi torri faro. Il reale desiderio, la speranza per le società calcistiche siracusane è quello di riavere in piena efficienza lo stadio Nicola De Simone. Ci sono delle problematiche che sono risolvibili e saranno risolvibili in pochissimi giorni, sono degli interventi di manutenzione che riguardano gli impianti elettrici e gli impianti in genere e diciamo che la prossima settimana potremo avere un impianto agibile sotto questo aspetto. Stiamo ultimando i lavori, avremo già la settimana prossima la certificazione sui lavori fatti agli impianti elettrici e avremo il diserbo totale dell'area, delle tribune per avere l'autorizzazione anche dalla commissione pubblici spettacoli. Parliamo del 118 a Fontanebianche, c'è la richiesta dei due consiglieri comunali di riattivare la postazione perché altrimenti si rivolgeranno alla regione. Dopo l'ennesimo incidente avvenuto nella strada che collega la frazione di Cassibile a Floridia torna alla ribalta il tema delle postazioni 118 presenti in città e soprattutto nelle zone periferiche. Da circa due settimane la postazione di Fontanebianche rimane chiusa, denunciano i consiglieri del Movimento 5 Stelle e Chiara Ficcare e Francesco Burgio. Non è pensabile poter privare la zona sud del comune di Siracusa di un necessario mezzo di soccorso indispensabile per salvare vite umane. Se non si troveranno soluzioni nel breve termine, continuano i due consiglieri, chiederemo l'intervento dell'assessorato regionale per risolvere questa spiacevole situazione. L'ambulanza del 118 della postazione di Fontanebianche interviene in tutte le situazioni di urgenza e emergenza che si possono verificare non solo nella frazione di Cassibile ma anche nel resto del capoluogo. Capita frequentemente, concludono Burgio e Ficara, che quando i mezzi delle postazioni presenti in città si guastano, quello della postazione di Fontanebianche viene sottratto alla regolare funzione per essere impiegato in sostituzione, lasciando di conseguenza la zona sud della città completamente priva del servizio 118. Intanto c'è da dire a proposito di questa notizia che la postazione del 118 di Fontanebianche sarà declassata da 12 ore a fronte delle 24 finora che erano in vigore. Andiamo alla cronaca, parliamo di un furto, di una serie di furti dei quali si sarebbe reso responsabile un quindicenne siracusano, pensate avrebbe fatto un blitz notturno alle catacombe di San Giovanni e rubato le tre telecamere della videosorveglianza, tra le altre cose. Avevano fatto un blitz all'interno delle catacombe di San Giovanni dove si sono impossessati videocamere, denaro e altri oggetti. La scoperta è stata fatta dai gestori del sito archeologico che hanno fatto scattare le indagini. In giro di poche ore i poliziotti e la squadra mobile hanno eseguito una misura cautelare personale del collocamento in comunità emesso alla procura per il minorenne di Catania nei confronti di un quindicenne siracusano. Il minore è stato riconosciuto responsabile dei reati di furto aggravato in concorso e di portodarmi e di oggetti atti ad offendere. Il giovanissimo è ritenuto responsabile infatti del furto avvenuto all'interno del sito archeologico di Largo Marciano dove si è impossessato di tre telecamere di videosorveglianza, denaro e merce contenuti in tre distributori automatici di bibite e snack con l'aggravante avere commesso il fatto durante la notte con violenza sulle cose in concorso con altre due persone, furto all'interno di impianto sportivo dove si è impossessato di indumenti sportivi, di un pc portatile, di elementi vari e denaro e infine di un altro furto in una stazione di servizio all'interno della quale si è introdotto con un motociclo privo di targa e provento di furto forzando un casotto in metallo e impossessandosi del denaro che si trova all'interno costudito con un bottino di 500 euro circa. Ancora per la cronaca ci spostiamo a Floridia dove è stato arrestato un uomo che si è presentato alla tenenza dei carabinieri di notte, ha insistentemente suonato, si è fatto aprire dal carabiniere che era di guardia e poi lo ha malmenato. I carabiniere della tenenza di Floridia hanno arrestato il floridiano Sergio Valenti, 48 anni disoccupato, già noto agli ambienti giudiziari e deve rispondere del reato di resistenza pubblico ufficiale, lesione e violazione degli obblighi della sorveglianza speciale con obbligo di dimora. Il Valenti, nonostante fosse sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con l'obbligo di soggiorno, si è presentato di notte nella caserma della tenenza di Floridia dei Carabinieri suonando insistentemente il campanello e chiedendo, senza dare alcun tipo di giustificazione, di parlare con i carabinieri. Una volta che è stato aperto il cancello da parte del militare di servizio alla caserma, l'uomo, in evidente stato di ebrezza, si è scagliato contro lo stesso che gli era venuto incontro, dapprima cercando di strattonarlo per il braccio e poi di colpirlo sferragliandogli una manata al volto e provocandogli delle tumefazioni allo zigomo e acufeni all'orecchio destro. Una volta riportata la calma e serata la colluttazione, i militari hanno dichiarato Valenti in arresto e così è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari come disposto dalla Procura a Retusea. Eccoci giunti alla seconda parte del telegiornale, proseguono a Priolo i festeggiamenti in occasione del quarantesimo anniversario dell'autonomia del Comune e facciamo il punto della situazione con il sindaco Pippo Gianni. Priolo Gargallo sta festeggiando il quarantesimo anniversario dell'autonomia, un evento che si traduce in una serie di manifestazioni culturali, spettacoli, sport, intrattenimento che hanno riportato al centro dell'attenzione del Comune sul cui territorio opera il più grande polo petrolchimico d'Europa e le iniziative sono partite dalla fine di settembre e si concluderanno la prossima settimana. E' quindi il momento di un primo bilancio con il sindaco Pippo Gianni. Un fiume di persone che hanno potuto constatare, vedere, gustare, ascoltare musicisti, artisti, poeti, attori, completeremo domenica con la festa del Priolinfiera dove tutti i commercianti di Priolo si danno appuntamento per dare alle persone la possibilità di avere tutto a un prezzo inferiore e il meglio che si pari sulla piazza. Io credo che queste opportunità servano per fare in modo che il paese si svegli, serve per far capire anche alla politica provinciale regionale che stiamo attende sul pezzo per quanto riguarda tutti i passaggi culturali, etici, politici, amministrativi. Cittadini e le piazze per assistere agli spettacoli senza dimenticare però i problemi relativi alla convivenza con le industrie. Certo, c'è una battaglia enorme che stiamo facendo sull'ambiente, è una battaglia che certamente mi mette impegnato in prima fila e che mi preoccupa da un lato perché capisco di essere un po' bastian contrario rispetto a chi ha dormito in questi ultimi vent'anni a suo effatto alla presenza di una zona industriale che certamente è una zona industriale, siamo tutti a vocazione industriale, ma che non ha messo in atto tutti quei meccanismi per ridurre fino al minimo possibile l'inguinamento atmosferale che produce tanti danni alle persone. Undici anni in città, il traguardo raggiunto da Stonewall, un'associazione che racchiude il LGBT. Sentiamo. Undici anni di Stonewall a Siracusa, che cosa significa? Undici anni di emozioni e di praticamente buone pratiche che abbiamo portato sul territorio siracusano. Uno dei nostri progetti più importanti che abbiamo fatto sul territorio non solo siracusano ma nazionale è Educare le differenze. Noi usciamo dalla sesta edizione pisana di Educare le differenze dove praticamente non avendo un colloquio con le istituzioni nazionali siamo arrivati alla conclusione che dobbiamo dialogare con le istituzioni locali, comunali nello specifico e anche regionali, per far sì di avere delle bellissime leggi regionali per arrivare ad un discorso nazionale sull'educazione alle differenze nelle scuole di ogni ordine e grado. Tessa, quali sono le difficoltà oggi proprio riferite al problema di cui parlava prima l'interlocutore? Allora, principalmente le difficoltà riguardano una mancanza di consapevolezza delle problematiche. Forse una delle cose che facciamo maggiormente a Stonewall è proprio una diffusione di informazione. Il nostro lavoro, infatti io e il mio collega Andrea Malpasso, è proprio il lavoro sul territorio proprio per la consapevolezza e per l'integrazione. L'Open Space, un laboratorio di tipo gratuito per il sostegno, la consapevolezza nell'orientamento e nell'identità di genere. Adesso parliamo di sport, parliamo di tennis, esordio in campionato, il massimo campionato di tennis per la squadra siracusana del Tennis Club Matchball. Questa mattina è la presentazione della squadra, eravamo presenti. Tennis Club Matchball Siracusa vs Sporting Club Sassuolo. È questa la prima giornata di campionato che vede il debutto della squadra siracusana in Serie A1. Domani, prima giornata di Serie A1, già per noi è tanto. Insomma, ho ripetuto più volte quanto per noi sia stato proprio un sogno. È stato un sogno riuscire domani ad iniziare il campionato di Serie A1, partendo dalla Serie C tantissimi anni fa. Però ho anche ripetuto che la squadra è la stessa quasi, degli stessi giocatori che hanno conquistato questa Serie A1. Quindi la squadra è prontissima, i giocatori stanno bene e in particolar modo Massara e Ingarau che hanno giocato due o tre tornei fuori future facendo degli ottimi risultati. Quindi le prospettive sono sicuramente ottime. Il Sassuolo è una squadra che vanta Napolitano, un giocatore 200 al mondo, al numero 1. Dalla Valle è un altro ottimo giocatore a due numero 400 ATP. Quindi saranno tutte e quattro dei singolari molto combattuti. L'incontro di domani mattina si giocherà nei campi matchball di Siracusa. Ancora sport, parliamo di calcio. Calcio ovviamente che riguarda la squadra siracusana, una parolamica e poi ce ne si vede in studio. Si giocherà domani la non aggiornata del campionato di calcio di Serie C, Girone C. La Sicula Leonzio di mister Vito Grieco sarà impegnata in trasferta contro la Casertana. Nelle prime otto partite disputate i bianconeri hanno ottenuto solo cinque punti registrando una sola vittoria. La Casertana invece risponde con 12 punti in graduatoria ed occupa l'ottava posizione. Scendendo di categoria nel campionato di eccellenza, il Real Siracusa Belvedere scenderà in campo al centro sportivo Riccardo Garrone contro il Ragusa, primo della classe in condominio con il Paternò. La squadra di Angelo Galfano, con i nove punti conquistati, si trova nella zona alta della classifica a tre punti dal primo posto. Giocherà in casa anche il Palazzolo, avversario di turno il Paternò. Trasferta per il Città di Rosolini che sarà impegnato contro l'Atletico Catania e per il Carrentini che incontrerà il Città di Scordia. Nel campionato di promozione il Siracusa, distante due punti dal primo posto, sarà impegnato nella trasferta di Caltagirone. Derby tra San Paolo Priolo e Floridia, impegno casalingo per l'RG che incontrerà il Città di Comiso. Trasferta d'Ispica invece per il Megara Augusta che con dieci punti è primo in classifica. Chiudiamo con un appuntamento che sta diventando ormai canonico domani alle 11 dalla chiesa di San Francesco d'Assisi in diretta la Santa Messa. Possibile seguire la trasmissione ovviamente sui nostri canali 172, in streaming su SR Live e sulla pagina Facebook di Tres Siracusa. Per quanto ci riguarda davvero tutto, grazie per averci seguito, alla prossima, arrivederci. Grazie a tutti.